Non c'è la Toscana nell'elenco delle nuove regioni in cui le terapie intensive stanno di nuovo raggiungendo il livello di guardia, nonostante l'indice del contagio anche qui resti sotto osservazione, dato che è di nuovo al limite per far scattare la zona arancione. Se sul fronte delle terapie intensive la regione più avanti rispetto a qualche settimana fa, è merito dei nuovi reparti allestiti all'ospedale di Lucca, a quello di Prato, e del centro Pegaso ricavato nell'ex centro Creaf, sempre nella città laniera. Negli ultimi giorni la struttura è andata riempiendosi con molti pazienti che sono stati spostati dalla Santo Stefano alla Nuovo Centro per le cure intermedie. Una vera e propria redistribuzione di pazienti letti con il ritorno di una parte dei posti e reparti di degenza normali. Si sta manifestando negli ultimi giorni un timido iniziale effetto delle misure di contenimento adottate nel periodo compreso tra Natale e l'Epifania e le previsioni indicano che la percentuale dei positivi sui casi testati sia destinata a scendere a partire dalla prossima settimana. A rilevarlo è il matematico Giovanni Sebastiani della CNR. Mi aspetto aggiunge che questa settimana o la prossima si raggiunga il massimo e si inizia a scendere. Dai calcoli emerge che la media della percentuale dei positivi sui casi testati della settimana scorsa è stata attorno al 30%, mentre la settimana precedente era della 27%. Secondo l'esperto si tratta dei primi segnali ed è importante che questa percentuale scenda in modo significativo prima dell'aria apertura delle scuole superiori.